Antonella Elia, ospite a Italia Si. Rai 1, ha concesso una lunga chiacchierata a Marco Liorni, assicurando che le nozze con Pietro Delle Piane, di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi, ci sarà e non sarebbero nemmeno così lontane. La showgirl torinese ha dichiarato che il matrimonio si celebrerà nel 2023. Il dubbio che realmente l'attore e la subrette si sposeranno, però, resta. Dalla serie, finché non vido, motivo? Non è la prima volta che la Elia, tra interviste tv e interventi sui magazine, annuncia l'arrivo dei fiori d'arancio. Peccato che fino ad ora, agli annunci non è seguito alcun che di concreto che questa sia la volta buona. Chissà. Opportuno sottolineare che, a differenza dei precedenti proclami, l'ex svalletta di Mike. Buongiorno, stavolta, ha almeno fissato una data generica, appunto il du Pietro è l'uomo della mia vita, bello e tenebroso. Lui mi vuole sposare, ma io ho sempre vissuto come un lupo solitario, sono un outsider, ha spiegato la Elia, che ha aggiunto che lei si è sempre considerata una zitella e che il compagno ha una famiglia di origine mera. A questo punto gli orni ha fatto da consigliere, suggerendo alla showgirl di buttarsi senza farsi attanagliare da troppe paturnie. Se lo ami e ti vuole sposare, lasciati andare, l'imbeccata affettuosa del presentatore. Mi ha fatto due proposte, le ho accettate tutte e due. Già in passato ho detto sì alle proposte di matrimonio e per questo Pietro si è arrabbiato. Ma ero piccola, dicevo sì per non far rimanere male l'altro, poi non mi sono sposata, ha narrato la subrette, lasciando di sasso gli orni che ha poi virato nuovamente sulla promessa da nel 2023 ci sposeremo, ha assicurato la Elia. Bisogna iniziare i preparativi, il consiglio del presentatore a cui ha fatto seguito un'altra replica piuttosto spiazzante della showgirl. Mi sposo così, alla veloce, a chiusato, lasciando basito gli orni, evidentemente un po' disorientato dai piani. Insomma, se il matrimonio ci sarà, non sarà sontuoso e con centinaia di invitati. Sarà, così, veloce, un po' naif, in pieno stile Antonella Elia. Antonella Elia è nata a Torino il 1 novembre 1963. La sua ascesa televisiva è iniziata negli anni 90, quando ha co-condotto programmi di grande successo come La Corrida, dilettante allo sbaraglio. Non è la Rai, pressi né la ruota della. Nel nuovo millennio ha partecipato a diversi reality show quali L'Isola dei Famosi, ha trionfato nell'edizione del 2012, Pechino Express, Grande Fratello Vip e Temptation Island, assieme al compagno Pier.